Il commissario dello Stato Carmela Ronica ha dato il via libera alla legge di riforma delle province che dopo l'abolizione degli enti introduce liberi consorsi dei comuni e le città metropolitane. Il prefetto dunque non ha rilevato all'interno della legge alcun profilo di incostituzionalità come ipotizzato da alcuni partiti di opposizione durante i lavori d'aula. Già nell'elaborazione della legge Cornice, la norma rinvia infatti ad un'altra legge la definizione delle funzioni dei nuovi enti, il governo aveva raccolto i pareri informali del commissario dello Stato proprio per evitare una possibile impugnativa. A comunicare il via libera è stato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone che ha espresso soddisfazione per il sì del commissario dello Stato. Il merito spiegava tutto il Parlamento siciliano. Abbiamo inaugurato un nuovo iter legislativo che ha consentito, grazie all'apporto di deputati della maggioranza e dell'opposizione, di migliorare il coordinamento del testo tanto da superare il vaglio del commissario dello Stato. Ma dopo l'approvazione della riforma arrivata una settimana fa, oggi si è aperto il capitolo del rimpasto all'interno della giunta regionale, questione che per mesi il presidente della regione Crocetta aveva preferito rinviare, ma adesso diventata inevitabile alla luce dell'appoggio ricevuto da alcune forze politiche proprio sulla riforma delle province. I principali alleati, PD e Udc, chiedono a Crocetta una giunta completamente nuova e soprattutto composta non più da assessori tecnici ma da esponenti politici. Una proposta questa sempre respinta dal governatore e neanche oggi, dopo cinque ore di vertice, Crocetta e la maggioranza sono riusciti a raggiungere un accordo. Secondo quanto filtra da chi ha partecipato, la riunione è andata avanti in un clima di schermaglie tra il governatore, che ha difeso l'azione della propria giunta e gli alleati che hanno invece chiesto il nuovo profilo politico dell'esecutivo. Il vertice è stato aggiornato a giovedì, Crocetta intanto nelle prossime ore incontrerà i singoli partiti.